In questo video ti voglio parlare della prima volta in cui ho fatto un lancio nel quale ho coinvolto degli affiliati, delle persone che promuovevano il mio lancio che non erano semplicemente me, quindi qualcuno di esterno che in qualche modo promuoveva il mio lancio. Vediamo come si è svolta questa cosa. Questo video fa parte della mia serie di video 30 lanci in 30 giorni, è una vera e propria sfida che sto portando avanti, nella quale sono stato coinvolto nel mio recente viaggio a Durango. Io sono stato a Durango per un mastermind organizzato da Jeff Walker, l'inventore, famoso inventore della Product Launch Formula, che è la strategia di marketing più efficace al mondo per lanciare prodotti, servizi o anche interi business online. Io sono il responsabile in esclusiva per l'Italia della Product Launch Formula, in Italia si chiama Formula di Lancio, e dunque insegno agli imprenditori, ai professionisti, agli aspiranti imprenditori in Italia a lanciare i loro business online. E quindi in questa sfida racconterò brevemente la storia di 30 lanci. In ogni video parlerò di un lancio, può essere un lancio mio, un lancio di qualche mio allievo, un lancio di qualche altro utilizzatore della Formula di Lancio, con il quale sono venuto a contatto in questi anni. Assicurati di iscriverti al mio canale per ricevere notifica di tutti questi video che pubblicherò in questi giorni, troverai un'icona qui in sovraimpressione, e poi se vuoi approfondire questi temi, temi dell'email marketing su cui si basa la Formula di Lancio, scaricati al mio ebook La Mappa dell'Email Marketing. Troverai un link nella descrizione di questo video, troverai anche un'icona qui in sovraimpressione per scaricarti questo ebook. Veniamo al lancio di oggi. Il lancio di oggi, dunque, io avevo iniziato, come ti ho descritto in uno dei miei video precedenti di questa serie, avevo iniziato a un certo punto a fare lanci in Italia. Prima li facevo solo in campo internazionale, quindi in lingua inglese, avevo iniziato a fare lanci in Italia, avevo creato il mio training Internet Business Academy, era arrivato il momento di farlo diventare più grande, di farlo crescere. E un modo molto efficace con la formula di lancio per arrivare a fare lanci più grandi, di iniziare a farli crescere, è di coinvolgere degli affiliati. Affiliati cosa vuol dire? Sono altre persone che in qualche modo hanno un seguito, hanno una lista o un seguito social, o comunque persone che leggono i loro contenuti, e queste altre persone, questi affiliati, segnalano il mio lancio, segnalano il nostro lancio e inviano il loro pubblico al nostro lancio. Dopodiché, se qualcuno del loro pubblico acquista l'offerta che ci sarà alla fine del lancio, gli affiliati ricevono una commissione. Questo tipo di lancio è il lancio che si chiama lancio JV, dove JV, proprio scritto come acronimo, JV, JV sta per Joint Venture. Quindi, Joint Venture è un lancio dove abbiamo dei partner che partecipano in Joint Venture, cioè ricevono delle commissioni percentuali sulle vendite che vengono realizzate sul loro pubblico. Ed è un modo molto efficace, perché avere altre persone che promuovono il nostro lancio fa aumentare in maniera drastica le dimensioni del nostro lancio. Come si fa a creare un lancio JV? Bene, è un gioco di relazioni, è un gioco di iniziare a tessere, a imbastire le relazioni con altre persone che sono degli influencer, che hanno un seguito nella nostra nicchia di mercato. E quindi io avevo già costruito la mia lista, l'avevo costruita un po' con delle sponsorizzate, un po' attraverso il traffico organico, ho iniziato a tessere le relazioni con queste altre persone che avevano le loro liste, ho iniziato a contattarli, ad avere degli scambi, e li ho anche invitati a Firenze, dove vivo, per fare un meeting, per conoscersi di persona. Quindi li ho invitati, ho affittato una sala in un hotel, ci siamo visti, ci siamo conosciuti, abbiamo avuto degli scambi di valore, li ho anche promossi. Ho chiesto a loro, ma avete qualcosa? Volete che io vi promuova utilizzando la mia lista? Ho cercato di dare, dare, dare valore, in modo tale da stringere sempre di più la relazione con loro. Dopodiché, dopo che gli avevo dato valore per un certo tempo e avevo stretto questa relazione, ho organizzato il mio lancio con degli affiliati, il mio lancio JV. E gli ho detto, ragazzi, bene, sto organizzando un lancio, vi va di promuovermi? E chiaramente tutte queste persone con i quali avevo stretto una relazione, ai quali avevo dato tanto valore, hanno detto, certo, volentieri, hai fatto tanto per noi, ti promuoviamo volentieri. Ci avrebbero anche guadagnato, chiaramente, ma al tempo stesso mi stavano in qualche modo restituendo il valore che gli avevo dato. E quindi, istantaneamente, io mi sono ritrovato che i maggiori influencer in Italia, nella mia nicchia di mercato, parlavano bene di me, promuovevano il mio lancio, in qualche modo parlavano al loro seguito di quello che io stavo facendo, del mio corso, del mio training, di quello che io stavo proponendo. E questo mi ha dato posizionamento istantaneo. immediatamente sono diventato una sorta di piccola celebrità all'interno della mia nicchia di mercato. È stato molto, molto efficace. Tra l'altro, questo mi ha permesso di fare un lancio di una certa dimensione, un lancio che ha generato 42.000 euro in una sola settimana di lancio. Quindi, un forte picco di incasso in un tempo molto breve. Questo è il tipico risultato che si ottiene. Non 42.000 euro, spesso si ottengono anche lanci più grandi. Infatti, tra l'altro, poi, ho fatto anche lanci JV molto più grandi di questo. Però, il fatto di avere una compressione nel tempo e avere un picco di fatturato in un tempo molto breve è la tipica metrica che si vede, che si osserva all'interno dei lanci, soprattutto dei lanci JV, in cui si ha questo forte effetto di promozione, di intenso focus su quello che stiamo facendo, sul lancio che stiamo, in qualche modo, proponendo. Ok? Quindi questo è stato il primo lancio JV, il mio primo lancio con affiliati che ho ottenuto in Italia. Se vuoi ricevere notifica di questi altri video che io sto proponendo, sto pubblicando in questi giorni per la mia sfida, 30 lanci in 30 giorni, assicurati di iscriverti al mio canale YouTube. C'è un'icona qui in sovraimpressione per iscriverti al canale YouTube. E poi, se vuoi approfondire questi temi legati al mondo della formula di lancio e dell'email marketing, assicurati di scaricare il mio ebook, la mappa dell'email marketing. Troverai un'icona qui in sovraimpressione e anche un link nella descrizione di questo video. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!